Ciao! Credo di avere il Gobbo davanti, invece ho detto no, no, per fortuna è solamente il... Ah, è vero, Elena, ma c'è un libro che possiamo avere tra le mani? Una copia del libro? Grazie. Non me lo ricordo più, quindi... Allora, perdonate la voce bassa, ma per chi mi segue su Instagram avrò osservato che mi sto divertendo ad andare a cavallo e... Grazie mille. Grazie. E tre giorni fa ho portato anche Vivienne a cavallo e ovviamente abbiamo beccato l'unico giorno di pioggia su Milano, invece ieri c'erano 30 gradi, quindi io bello bello, da canottiera e c'ho la voce che va e viene. Bene. Ad ogni modo, buonasera a tutti. Oggi sarà una presentazione particolare perché qui sulla mia sedia ci sarete voi. Nel senso che vi faccio salire e chiacchieriamo qua con domande a tu per tu. Quindi preparatevi un po' di domande perché iniziamo subito. Io do un grazie, un benvenuto a tutti voi, ovviamente. Vi ringrazio veramente calorosamente, con tanto affetto. Torino mi mancava, è una delle prime città che ho chiesto alla casa elettrice di poter venire a toccare proprio perché, insomma, abbiamo sempre affrontato l'argomento salute in maniera molto diretta. Abbiamo sempre parlato insieme tanto anche, parlo proprio anche del circolo dei lettori, in modo informale, cioè perché la salute ovviamente passa dai nostri piatti, da quello che mangiamo tutti i giorni e da come ogni giorno ci comportiamo appunto a tavola, anzi, fin da quando facciamo la spesa. E questo libro nasce proprio per raccontare un po' come l'alimentazione, quindi può influenzare l'attività, l'andamento dei nostri organi, della nostra salute. E nasce per esaudire un po' quella che era una vostra richiesta, quindi la correlazione diretta tra la macchina umana, la meravigliosa macchina umana, e le nostre abitudini, fondamentalmente le nostre scelte alimentari. Peppe, c'hai il posto qua seduto davanti, sei lì? E quindi ecco, chi vuole iniziare a parlare? Che non abbiamo fino a stanotte inoltrata. Nessuno adesso. Prima tutti, parlo con voi tutti, sì, 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 sì. Poi chi vuole iniziare? Nessuno. Dai un po' di movimento creiamo. Chi è che vuole venire? Nessuno, ma non ci credo. C'è qualche domanda? Niente, non dovete chiedere niente a nessuno. Vi vergognate del palco, vi vergognate? Davvero? Volete restare lì di nascosto? Vi passo il microfono, preferite quindi? Tanto vi vedo comunque, non è che... Non vi mangio, non mangio carne ormai da vent'anni, cioè non vi preoccupate, non sono... No, nessuno. Devo passare io a fare la valletta. Eh? Dai. Oh, vieni tu, vieni su, prego. Manina, braccetto, vieni. No. Niente, da sola. Brava, alter il tuo microfono, accomodati. Cosa vuoi chiedermi? Nome e cognome in tal... No, solo il nome. Posso toglierlo? Non si può, mi hanno detto, perché sennò devono cambiare il microfono. Devo accendermi. È già acceso. Gabriella Vecchione. Gabriella. Qualche cosa posso dire? Certo. Sull'alimentazione? Certo. Allora, io ho avuto la mamma che è vissuta fino a 102 anni e mezzo, e come se vedeste me? Uguali, io ne ho 82, comunque. Beh, complimenti quindi. Quindi c'è un segreto di famiglia praticamente. Ha spillato il napoletano, proprio il senso dell'alimentazione. Beh, napoletano vuol dire dieta mediterranea, quindi. Sì, ecco. E quindi lei si faceva da mangiare, non ha avuto nessuno fino all'ultimo anno, ma... Autonoma fino a 102 anni, praticamente. La struttura dell'aneurisma, della orta, in due giorni, serenamente. Per cui io attribuisco questo... Un microfono un po' più vicino alla bocca. Attribuisco questo proprio al fatto che lei si è alimentata sempre benissimo. Anche che io abitavo sotto, sopra, quindi io ho tolto tanti pensieri. Però mi ricordo, andavo su la sera all'ora di cena per salutarla e aveva delle cosine stupende. Non la fettina di carne così, ma con una marinata, l'aglio, il prezzemolo. Ecco, quindi l'ha trasmesso a me. E certo. Sono vedova da un anno, ma io continuo a fare bene da mangiare per me. Brava, brava. Brava. Brava perché io qualche libro fa parlavo dell'alimentazione come vero atto d'amore. E... Nei propri confronti ovviamente, perché se noi siamo bravi ad alimentare noi stessi, lo siamo anche per gli altri poi. Ecco, io ho avuto mio marito 13 anni di alzheimer, che insomma non era... Certo. Gli ultimi 7 anni sono stati difficili, gli ultimi 3 tutto passato, ma io mi sono rifiutata di dargli questi pastoni. Quindi ho anche fotografato i piatti che li facevo. La crema verde del cittaccio, poi il prosciutto, in modo che avessero dei colori. Certo, certo. E a primavera gli mettevo per tiro le primule. E questo è stato il mio amore fino alla fine. Mi stai molto emozionando, è un bellissimo racconto e ti ringrazio, guarda, di averlo portato a tutti noi. Tu hai bisogno di mangiare, secondo me, queste diete che molte ragazze oggi signori fanno, si stressano da morire. Sono d'accordo con te. E invece basta mangiare poco di tutto, pasta asciutta, verdura. Ma intanto non aver paura del cibo, questa è la prima cosa. Perché oggigiorno siamo terrorizzati, questa è la vera parola, a diversi cibi insomma che appunto di cui leggiamo. Sì, ma è uno del piacere della vita, non si può umiliare con queste cose. È vero, è vero. Grazie, grazie mille. Altro che un applauso, non l'ho mangiata, ancora viva, scenderà dal palco in piena autonomia. Piena autonomia, perfetto, finché si siede, come si fa con i figli, fino a per tornare a casa, manda il mio messaggio. Chi c'è? Chi è il prossimo? Dai, qualcuno che ha un'altra bella storia da raccontare. Dieta mediterranea, qual è il vostro piatto preferito? Allora, iniziamo da così. Che? Spaghetti al pomodoro. Vieni a raccontarci la tua pasta al pomodoro. Come la prepariamo? Vieni qua. Tu fai il gradino intero, ti lascio il microfono, io mantengo le distanze, così almeno sono... Bene. Come ti chiami? Assunta. Ok, Assunta sei di Torino? Originaria calabrese, ma vivo da 63 anni a Torino. E siamo di qua ormai, insomma. Sì, 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 decisamente. Basta il pomodoro. Io nel libro, tu sai che questa, insomma, ho cercato di alleggerire ulteriormente tutto quello che potevano essere piatti troppo complicati, che qualche libro fa mi accusavate di essere un po' appunto difficile magari da recuperare un alimento, piuttosto che una certa ricetta troppo lunga. Ho cercato di tararmi tutto sui 30 minuti al massimo proprio per confezionare un menù addirittura. La pasta al pomodoro rientra tra i vari piatti con delle chicche, magari arricchendo appunto di licopene, di antiossidanti, la salsa, quindi semplicemente frullando all'interno dei pomodori secchi, banalmente. Oggi nelle stories vi ho fatto vedere, ad esempio, ho fatto una specie di bruschettina dei sandwich che ci siamo mangiati appunto dopo la passeggiata a cavallo con cosa? Pane, pomodori freschi, pomodori secchi frullati insieme a creare questa sorta di crema e poi aggiungi dentro delle mandorle, delle anacardi, qualcosa che ti può piacere e delle spezie, origano, basilico, cocosia, due capperi, un'acciuga, frulli tutto insieme e viene una crema spalmabile con cui farcisci dei tramezzini che sono una bomba. Io li ho arricchiti anche con due scaglie di grana, era veramente top. Detto ciò l'ho preparato per dieci persone, l'ha mangiata, erano contenti, quindi contento anch'io. La tua pasta al pomodoro invece, com'è? Semplicissima, tre ingredienti, olio, pomodoro, basilico, basta. Però vedi ancora una volta, si torna alla semplicità di cui si parlava un minuto fa, cioè noi siamo tanto alla ricerca del superfood che comunque la scienza in qualche modo ha purtroppo soppiantato, ha buttato giù perché non esiste un vero superfood. Esiste il superfood in termini proprio del pensiero di più alimenti che permettono proprio di dare una funzionalità a livello dell'organismo. Non esiste un solo prodotto che può fare del bene per tutto il corpo e per tutta la vita, ma è una costanza di tutto un po', come si diceva poco fa, e soprattutto di introducendo quelli che sono alimenti che per l'appunto riescono a regalare una sorta di comunicazione con il nostro DNA. Cioè il bello della funzionalità a livello alimentare è questo, cioè che un alimento parla, dialoga con il nostro DNA e permette di cosa? Di ridurre quello che è il processo di invecchiamento cellulare, ad esempio. Però tutto questo lo fa attraverso piccoli step che avvengono ogni giorno, quindi attraverso gli errori eventualmente che facciamo, che commettiamo a tavola, possiamo ripararli attraverso una scelta alimentare più oculata, più mirata. E allora dimmi quanto posso sgarrare di cibi dolci, per esempio. Ecco, questo dipende intanto dal nostro stato di salute. Se non ci sono particolari problemi, si parla di questo sgarro... Ma come sono tutti attenti quando si parla di sgarro? No, si parla dei famosi... E' sensibile, è un argomento sensibile. No, diciamo che qua dobbiamo rifarci su quello che non è un sentito dire, non è un, insomma, un put parlay, ma dobbiamo assolutamente basarci sui famosi 25 grammi di zuccheri liberi della giornata. Quello è il nostro sgarro. Noi superati quei 25 grammi, è lì che inizia appunto la nostra pecca a tavola. Però non devi spaventarti così tanto, perché di per sé, se tu conteggi esattamente lo zucchero libero che consumi, non è sempre così tanto. Attenzione, magari in estate è più facile arrivarci perché mangi un gelato, perché, insomma, ci sono più prodotti a tua disposizione. Ma non so se tutti i giorni siamo sempre pronti a mangiare, che ne so, due cornetti al bar, due brioche al bar, o nel caffè o nel cappuccino che sia, mettere otto cucchiaini di zucchero. Secondo me è tanto, cioè non credo che si arrivi... Cioè è più facile nei giovani, nei bimbi, ma sull'adulto un consumo così esagerato di zucchero, non lo so. Forse lo fa la mia amica, Benedetta Parodi, io la sgrido perché la mattina si mette otto cucchiaini di zucchero nel caffè latte. E gli dico, è impressionante Benedetta, cioè sta lì, fa una storia che dura 30 secondi e fa scendere zucchero, zucchero, zucchero. A volte le mando i whatsapp e gli dico, ma Benedetta che cazzo stai facendo? Ma quanto zucchero metti? Mi piace partire la giornata con dolcezza. Non si vede? No, è magrissima Benedetta, è magrissima. Però non è questa l'associazione, attenzione. Non dobbiamo pensare a chilo di più e zucchero più o meno. Cioè è tutta una questione che va oltre. Nel senso, lo zucchero, ad esempio, invecchia le nostre arterie. Il nostro apparato cardiovascolare, nel paro nel libro, è influenzato da quanto zucchero consumiamo e questo, indipendente dal fatto che siamo più o meno normopeso, non è legato al grasso viscerale, per dire. C'è più un discorso eventualmente a livello oncologico, per quanto alcuni tumori sono ormonosensibili, dettati quindi dall'ingresso di zuccheri semplici aggiunti. E allora lì sì, possiamo fare un discorso, però ancora una volta non è strettamente legato al chilo di più o al chilo di meno. Quindi ecco, la pecca dello zucchero ci sta, ovviamente, nelle quantità che possiamo in qualche modo concederci. Tu dove sei golosa, ad esempio? Quanti zuccheri consumi? Quanto credi di consumarne, ecco? Tanti. Tanti. Comunque, io sono golosa di cioccolato. Ah, e vabbè, è già una cosa buona questa. È contente. Beh, qua intanto sei nella patria del cioccolato, ti va bene. Già questo è un modo perché avevo una scusa per mangiarlo. Non mangio, non posso fare nemmeno. E ma tutti i giorni va a bere. C'è uno studio, esempio, bellissimo sul consumo quotidiano di circa 30 grammi di zucchero, di cioccolato fondente, dove i 30 grammi sono circa 3-4 quadratini, in base al tipo di tavoletta, ovviamente. No, ci sono delle tavolette anche da 50 grammi, quindi ti sembri mangiare mezza tavoletta con 30 e dici, urca, sono sottili, sottili, però almeno vanno. È bello. Sì, aiuta però, guarda. Quindi alla fine, se mangi sempre il cioccolato e magari lo abbini anche al caffè, ne aumenti di circa 200 volte l'attività polifenolica. Perché è un abbinamento, ne ho parlato, sia in questo libro che sia nel precedente, sia in quello delle emozioni. E' un abbinamento perfetto per, appunto, amplificare un segnale che poi diamo positivo ovviamente al nostro organismo. Quindi non è così male. Poi oltre a quello, però mi dici che mangi, che ne so, due chili di gelato e tre fette di torta, ecco è lì che è la quantità di… però tendenzialmente il cioccolato è anche poco zuccherato di per sé. Non riesce a soddisfare, a arrivare a questa quantità limite. Meglio sempre un fondente, mai esagerare sul 90-95% perché spesso però per renderlo più appetibile viene aggiunto del grasso e dello zucchero apposta. Quindi è meglio davvero trovare l'equilibrio sul 70%, 72%. Di solito in quelli, da analisi che abbiamo fatto anche come Fondazione Veronesi, abbiamo osservato essere veramente il plus giusto per arrivare, appunto, a un giusto compromesso tra grassi e zuccheri liberi. Quindi sì al cioccolato. Ecco, una cosa che mi succede ultimamente… Vedi che poi salite e parlate? E' questo il bello, è questo il vostro bello. Quando mangio delle torte mi viene mal di testa. Mal di testa. Non mi era mai successo. Questo può essere dovuto veramente a una serie di sostanze che il cibo contiene o che permette in qualche modo di rilasciare durante la fase di digestione. Ce l'hai mentre stai mangiando o in fase digestiva? In fase digestiva. Ok, allora sì. Ho capito che non ne devo mangiare tanto dopo pranzo. O tanto o addirittura appunto c'è qualcosa che ti suscita questa… Da giovane non mi succedeva. Eh vabbè ma questa è la bellezza del crescere insomma, diventando più saggi diventiamo anche più attenti. Si diventa più saggi. È vero questo. No però scherzi a parte, guarda che c'è anche banalmente il lattosio sotto certe soglie, anzi sopra certe soglie ci può provocare dei fastidi, innebbiamento alla vista, dei momenti di confusione mentale in cui non siamo più lucidi e banalmente questo avviene con un accumulo ad esempio appunto di lattosio che abbiamo ingerito. Quindi potrebbe essere magari dopo una pizza, se ti mangi una caprese non succede niente, se però magari mangi una pizza dove la mozzarella è di più banalmente potrebbe capitare. O sei fuori e ti mangi un tagliere di formaggi convinta magari sia comunque un piatto veloce, leggero e poi non lo è. Insomma sono diversi componenti negli alimenti che purtroppo possono scatenare qualcosa, qualche reazione, dalla vasocostrizione a una vasodilatazione fino a poi ovviamente a un problema invece intestinale di vero e proprio assorbimento di un certo principio attivo, definiamolo così. Però ecco hai fatto bene a darci un input, quello di osservarci, questo è fondamentale e in questi casi dovresti segnarti su un foglio ad esempio se c'è, monitorarti per una settimana e capire se mangiando un determinato alimento ad esempio questa cosa avviene e magari se avviene se consumato magari per tre giorni di seguito. Tu non ci fai caso magari però quel pezzo di mozzarella che hai preso da un chilo però te la dividi per tre giorni, ecco però se poi per tre giorni hai mal di testa puoi capire, attribuirla a quel prodotto particolare. Abbiamo un po' chiacchierato? Sì, ho detto veramente tanti strunti di pensiero, ma veramente tanti. Che lo possiamo fare un applauso? Ah no, vuoi dire un'altra cosa? Sì, ti volevo chiedere qualcosa in più sul grasso viscerale. Qualcosa di più sul grasso viscerale? E cosa ti devo dire? Approfondiamo un po'. Al grasso viscerale? Quelli che portano di più... Intanto definiamo il grasso viscerale soprattutto quello appunto legato all'addome. Salvagente. Esatto, che si sviluppa solitamente dopo i 35-37 anni e inizia a salire nella vita insomma. È il grasso più dannoso perché è quello che purtroppo è difficile da smaltire ed è quello che nel tessuto adiposo, che è fatto da vari strati, ci sono queste grosse cellulone. Quando ero in laboratorio le studiavo e mi piaceva anche tanto perché sono molto simpatica a vederle. Perché hanno un nucleo piccolo 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 ma loro sono giganti e trattengono dentro di sé purtroppo tanti metalli tossici, sostanze di rifiuto. E purtroppo non è... Tutto questo porta nel corso del tempo ad avere nel proprio organismo quindi più materiale di scarto. Divente un po' come delle grosse discariche per il cibo, per il nostro corpo. Prendo l'idea? Molto. D'ora in poi ti penserò sempre così. Quando butti la patumiera quindi, perché mi pensi in quel momento. E quindi in questa fase insomma, quando le cellule poi accumulano, accumulano, accumulano questi rifiuti, ecco c'è bisogno anche poi di smaltirle come una vera discarica insomma. Non è a cielo aperto però è dentro di noi. E per smaltirle non possiamo fare altro che sport, molto sport, e mangiare ciò che non produce queste scorie. E fondamentalmente sono la riduzione di proteine e di grassi saturi. Quindi un po' il trucco sarebbe ridurre la quantità proteica, ridurre quelli che sono i grassi saturi e giocare molto di grassi insaturi e una parte di carboidrati. Questo è un po' il gioco. E' ovvio che tutto è un po' una questione di equilibrio e se per caso però siamo in un percorso di insulino resistenza, abbiamo difetti al nostro metabolismo, lì ovviamente dovremmo metterci più mano ancora e ovviamente non possiamo farlo da soli. C'è uno specialista, in questo caso è la persona migliore. Solitamente un endocrinologo abbinato magari a un nutrizionista. Proprio perché come ideologia vanno abbastanza insieme poi le due specializzazioni e anche il problema da risolvere. Grazie. Nulla. Grazie mille. Ora ne facciamo un applauso, ti faccio scendere dal palco. Grazie. E chi è il prossimo che vuol salire? Vieni qua con noi. Mano, braccetto, niente. Prego allora. Non posso offrirti l'acqua, l'avevo io per te però. Bene. Nome. Piacere, Maura. E dunque piacerone di conoscerti intanto. Grazie. Perché sei un mio amico. Sei di Torino? Sì, Torino. Cuneese di nascita e poi torinese di... Cuneo, la mia tatuatrice è di Cuneo. La Bonelli, la conosci la Valentina Bonelli? La famiglia Bonelli? No, no. Ma hai segnato a mangiare il pane con l'aglio e il gorgonzola sopra. Ah, ecco. Che voi chiamate come? Noi chiamiamo lo zola e invece voi lo chiamate il gongo? No, il... No. Come si chiama dalle tue parti? Gurgu, forse la gurgu. Brava. Sì. Va bene, torno serio. Raccontami, qual è il tuo problema? No, nessun problema perché da quando ti conosco mi hai aperto un mondo e quindi ti ringrazio perché appunto mi piace da anni mangiare sano, cercare come dice la signora un equilibrio, un'alimentazione, lo trasmesso le mie figlie. Grazie. I fidanzati, le mie figlie che vengono in casa quando faccio le tue ricette e mi dicono ma non è possibile che dentro c'è lo yogurt bianco, lo yogurt greco, insomma. Sì, sì, sì. Invece no, è vero e hanno imparato a pensare anche questi... Ma che bello. Hai avuto difficoltà in famiglia a, insomma, a diffondere... Un pochino sì perché comunque è la tradizione cunese, piemontese, i piatti sono pesanti e la cucina è molto più, però appunto ho imparato tutti questi trucchi di verdurine, abbinate, cereali e alla fine ho insegnato anche loro, devo dire che ora tutti siamo... Anche mio marito che prima era più di cucina classica piemontese ma ora... Abbiamo avuto tre diverse voci in cui comunque avete raccontato la vostra esperienza in casa, insomma, e di come appunto il cibo può fare un po' da tramite, può fare da passaggio emotivo, ma può anche fare da insegnamento in questo caso. Quindi le basi che tu hai dato, insomma, che io ti ho dato nel corso degli anni e che tu adesso in qualche modo stai tramandando, ma attraverso quello che cucini tutti i giorni, ecco, è qualcosa che secondo me è molto emozionante ed è bello vedere come anche le nuove generazioni in qualche modo apprendano, abbiano voglia di saporare, insomma, o comunque di sperimentare. Solo il fatto di non dire no per partito preso, non lo mangio, insomma, ma perlomeno assaggiare. Ma si riesce a trasmettere questa cosa? Io dico sempre che ci vorrebbe un'educazione alimentare fin dall'alimentare, come materia, no? Ecco, esatto, perché se tu insegni... C'è stato un anno quando ancora era in vita il professor Umberto Veronesi in cui affrontammo il discorso col MIUR, col nostro Ministero dell'Istruzione, per avere almeno un'ora a settimana nelle scuole dedicata all'alimentazione, ma l'alimentazione intesa non come processo digestivo, ma proprio come imparare a mangiare. Mangia sano. Io avevo messo giù un programma stupendo sulla piramide alimentare distribuita nei cinque anni scolastici dell'alimentare, quindi è neanche da dire che chissà che... Cioè, proprio racconta la piramide nel... come è nata, insomma, come bellezza poi italiana, perché poi è un valore nostro che ci portiamo dentro e che possiamo diffondere in tutto il mondo. Insomma, Ansel Kiss fece un bellissimo lavoro legato proprio a tutto quello che è il... tutti i cibi protettivi che dagli anni cinquanta, insomma, a fronte di un lavoro di trent'anni, insomma, emersero dopo questo lungo momento di studio legato proprio al mondo cardiovascolare. Poi da lì è abbinato anche a tutto un mondo oncologico, perché poi partiamo da lì. Cioè, dal cuore poi si distribuisce praticamente in tutto quello che è l'aspetto anche di oncogenesi, fondamentalmente. E fu uno degli studi che appunto ci permisero anche di aprire gli occhi su quelli che sono i valori poi italiani, del sud Italia, soprattutto quando si parla di Salerno, Cilento, tutta la parte giù, poi ovviamente diffusa e distribuita in tutto il paese. Però, bella, bella questa cosa. Le focaccine della Vivi. E anche quelle, ad esempio, focaccine fatte con lo yogurt, per dire. Uno non ci pensa, sono nate un po' per... Scusa, un po' per caso. Nel momento in cui eravamo appunto con Vivi a sperimentare, non avevo... Cioè, voleva farle con il latte, le ho detto, aspetta, facciamole con lo yogurt, dobbiamo vedere cosa cambia nell'impasto. O, il pasto sarà anche bastardo perché appiccica quanto vuoi. Sì, però... Però messe giù poi nella teglia diventano delle focaccine che secondo me è una bomba. Questo è una cosa, quindi hai un sacco di ricette che copiamo. Sono proprio contento, guarda, grazie mille. Figurati, ti ringrazio a te perché appunto sei... E oltretutto, ecco, anche i tuoi studi, cioè quando tu giustamente parli anche di vitamina D, ho seguito un sacco di cose anch'io sulle vitamina D, quindi sono sempre che rompo a tutti, dico, vitamina D, fatevi il controllo, fatevi l'esame, mi raccomando. Quindi, guarda, tra la vitamina D e la B12 che spesso lasciamo perdere, ma perché questo? Il problema spesso è che uno abbiamo uno stile di vita differente da come lavorava, insomma, sua mamma all'aria aperta in generale, questo di sicuro. E poi perché siamo molto, non è vero, magari noi no, però siamo spesso, insomma, un po' viziati nel comprare e acquistare anche prodotti magari già confezionati, che di per sé sono magari un po' privi di vitamine, di determinati nutrienti, che invece andremo a recuperare mangiando in un certo modo. Anche se nel cibo in realtà non ce n'è tantissima una contenuta, cioè se non l'assumiamo diversamente. Esatto, esatto, esatto. Quindi bisogna imparare davvero a bilanciare, bilanciare, equilibrare appunto il più possibile il cibo, ovviamente, e il suo contenuto, ovviamente, nutrizionale e funzionale. Esatto, sì, tantissimo. Grazie allora. Grazie a te. Grazie mille. Sono le sette e cinque, siamo bravissimi, stiamo andando avanti a parlare per bene, quindi abbiamo ancora, credo, un quarto d'ora più o meno, quindi vorrei sul palco chi scegliamo, signori, signori, no, chi è che vuole venire? Nessuno? Basta? No, siete già stufati di chiacchierare? Mica vengo a Torino tutti i giorni, eh. Verrò a Novara però il 25 maggio, quindi se non sapete cosa fare venite a Novara anche, che chiacchieriamo anche a Novara insieme. Nessuno? No. Oh, vieni, prego. Diamo il benvenuto a... Francesca. Francesca, prego. Francesca, puoi accomodarti, recupera il microfono vicino alla mascherina, perché sennò siamo già... Sì. Allora... Una ragazza con noi, una diciottenne che ci racconta cosa. Sì. No, veramente io volevo farti una domanda. Certo, devi. Cosa ha questo libro di diverso dagli altri? Cosa ha di diverso dagli altri? E poi un'altra domanda. L'importanza dell'abbinamento dei cibi, che è una cosa che mi incuriosisce un sacco. Cioè lo stesso cibo abbinato a un altro, oppure ingerito da solo, ha un effetto diverso. Che bella. Non so rispondere. No, sto scherzando. Allora, il libro di diverso dagli altri, intanto c'è il fatto che è proprio concepito diversamente. Prima rispondevo alla domanda, prima, nel senso, i libri precedenti, rispondevo alla domanda, questo alimento permette appunto di contiene una serie di elementi che in qualche modo vanno a interagire con, in maniera generica, vari organi. Questo lo andavo a specificare in didascalie praticamente. Con questo libro invece entro in maniera più verticale in organo specifica. quindi ho scelto gli organi a me più simpatici, diciamo, o comunque quelli più per i quali c'è tanta letteratura scientifica dietro. Ecco, questo definiamolo. Perché alla base di tutto c'è sempre comunque uno studio di relazione tra cibo e effetto patologico. O migliorativo, attenzione, quindi non per forza mangiare una cosa ci porta a star male. Mangiare una cosa ci porta a star meglio o a far funzionare meglio un determinato farmaco, un principio attivo. Quindi questo libro nasce così. Ho pensato ai vari organi e sui vari organi appunto pensare a come possa quel determinato cibo poi volergli più bene, insomma, renderlo più giovane, rendigli meno acciacchi, farlo invecchiare meno. L'abbinamento dei cibi lo affronto nel libro anche perché molto banalmente do delle note molto spesso in cui vado a raccontarti del perché, che ne so, la curcuma insieme al pepe permette di attivare la curcumina perché piperina e curcumina si abbiano tra di loro, esplodono, è un po' come il discorso del cioccolato che dicevo poco fa e del caffè. Il caffè preso da solo è buono, fa bene, ha x grammi di polifenoli, se abbinato al caffè questi grammi diventano cento volte di più. Ma non devi però prendere il caffè oggi e il cioccolato domani perché non avrebbe più senso. al contrario invece che ne so, la vitamina C assunta in un pasto non ha senso prendere la prima del pasto per forza. L'importante è che la vitamina C presente nel cibo che consumi, quindi ad esempio di una crudite, di, che ne so, un'insalata banalmente, ecco, ha un effetto potente sul ferro presente in tutto il pasto stesso. Però non funzionerebbe, non attiverebbe così tanto il ferro qualora la prendessimo alla sera per dire. Ecco, di tutto questo ne parlo perché qui fondamentalmente c'è dietro un processo poi biochimico di associazione tra cibi. Tutto quello che mangiamo è chimica, mettiamoci in testa questo. Quindi tutte queste molecole che riusciamo a, a far parlare tra di loro, a far abbracciare tra di loro, ecco, funzionano nel momento in cui rispettiamo questo loro equilibrio. Equilibrio fatto anche di orari, di quantità soprattutto. Dobbiamo studiare. No, vabbè, dai, non è un vero studiare, però è sicuramente un mettere una base su alcune, cioè, è un po' come io dico sempre, racconto, quando chiacchiero con Vivienne, le dico sempre che intanto bisogna essere curiosi e porsi qualche domanda in più rispetto a quello che già sappiamo. E poi, una volta che impari le basi però, poi dopo ci giochi, nel senso che tu puoi fare le focaccine appunto usando lo yogurt, però puoi usare anche il latte, puoi usare l'acqua, puoi usare l'olio, in base al liquido che utilizzi ovviamente cambierà poi la consistenza. E questo esperimento l'ho fatto ad esempio con lei e si accorta lei stessa di come cambia l'impasto, cosa cambia poi a livello di cottura, perché è totalmente un altro mondo poi se fai mescoli delle farine con un grasso piuttosto appunto che con un liquido, con un liquido che contiene anche dei grassi quindi cambia totalmente tutto sempre e questa è un po' la magia che possiamo avere tra le mani come degli alchimisti nella nostra cucina ed è un po' la bellezza appunto che il cibo ci regala quindi ecco questo è un po' il succo poi ovvio che nel dettaglio adesso non riesco a entrare però però sì insomma ogni abbinamento nasce proprio però tendo a spiegarlo in tutta la prefazione di ogni capitolo di ogni organo proprio perché in base appunto a determinati principi attivi presenti in alcuni alimenti riusciamo poi ad attivarne degli altri o meno sulla base appunto degli altri ingredienti che andiamo ad aggiungere interessante qualche altra domanda? ah sì io ne ho e fanno un'altra tanto come crei le ricette? ti metti gli esperimenti provi? sì 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 le sperimento tutte prima di fare il libro ovviamente e le replico tre volte diciamo tendenzialmente o le sogno di notte questo è un tempo questo qua invece no l'ho fatto tutto un po' a tavolino perché ero sul set di linea verde estate dell'anno scorso e tra una trasferta e l'altra di ogni puntata niente me le annotavo però nascono sulla base della ricerca scientifica queste quindi se studiavo che in un certo articolo di un gruppo di ricercatori si evinceva il rapporto tra verdura foglia verde e alzheimer ad esempio ok allora perfetto perché qual è il principio attivo del verdura foglia verde che combattono contro l'invecchiamento cellulare nel neuronale ok è questo come si preserva questo principio attivo cuocendo o no? ah nel surgelato poi nel surgelato c'è uno shock termico maggior rispetto a quello fresco perfetto allora devo idearmi tre ricette che contengono spinaci surgelati banalmente questo che quindi traduci le ricerche in dei bei piatti esatto si traduco le ricerche scientifiche nei piatti e e questo l'ho fatto appunto lo facevo un po' via note telefono perché lo facevo soprattutto via note in viaggio e poi le riportavo in ricette dopodiché ho tornato a Milano quindi era settembre questo qua l'ho fatto tutto tra giugno e agosto tornato a Milano a settembre le ho cucinate per i cavoli miei sono venute bene aggiustavo qua e là magari quantità dopodiché le passo in mano a uno chef un amico chef perché possa replicarle anche lui con i suoi occhi con le sue mani eventualmente mi dà anche delle dritte se ci sono che però sono più a volte dritte tecniche no? ma guarda che rosolata funziona di più perché dà più sapore e allora lo lascio anche parlare e dire però poi magari non si sposa con il mio metodo o col vostro perché noi vogliamo essere un pochino più sbrigativi in alcune cose e poi la terza cucinata avviene di nuovo tra le mie mani quando facciamo le foto e allora lì poi abbiamo anche la prova d'assaggio mentre la prima prova d'assaggio è internos familiare la terza prova è con la troupe con i ragazzi che fotografano con chi arreda insomma quindi dopo queste tre prove basta il libro va in stampa posso fartene ancora una? un cibo che proprio non ti piace che non proprio fai fatica la carne l'ho tolta dalla mia vita per mille motivi però proprio anche perché non mi piaceva un cibo che non mi piace di quelli che cioè scusa la carne non ne ho nel senso che non mi piace in generale la roba appucciata inzuppata tipo che ne so biscotti o la brioche nel latte a renderli molli non riesco o un tiramisu fatto male troppo bagnato non mi piace questo è quello è un tipo però è di consistenza più il problema come sapore ecco forse la barbabietola la barbabietola così com'è no quindi frullata cotta non riesco proprio se però ad esempio mi fai una vellutata di patate e barbabietola e poi ci mettiamo sopra una quenelle di caprino con erba cipollina lì mi piace moltissimo o banalmente la barbabietola quindi la rapa rossa cruda tipo a julienne con suo aceto balsamico e un buon olio e due erbete un po' di aneto mi piace da matte ad esempio quindi lì anche in base a come la prepari come la tratti la materia prima e e poi ma no non mi piace il pesce crudo è una roba che proprio non riesco a mandare giù deve essere marinato o cotto ad esempio un po' come anche il tuorlo dell'uovo a me a crudo non piace cioè l'uovo alla cocca non riuscirei mai a mangiarlo ecco però è una questione proprio di gusti questa me lo fai cuocere un pochino di più te lo te ne mangio dieci quindi e basta nel corso degli anni ho imparato ad apprezzare invece i formaggi erborinati che prima non mangiavo erborinati con l'erba dentro no con le muffe e i gorgonzola banalmente ecco resta uno di questi e poi pian piano invece ho iniziato ad apprezzarli soprattutto in cucina magari per dar sapore a un piatto ma ne basta a volte veramente poco però ti dà quel retrogusto che ti aiuta appunto e magari ti permette anche di esaltare un certo sapore e basta no questi credo grazie prego un applauso grazie mille sette e un quarto siamo precisi bravi non ci sgrida nessuno c'è ancora una domanda sì vieni sì così almeno chiudiamo con te chiudiamo con con Pietro una domanda microfono Pietro se no mi mi sgridano da casa dalla regia sì sì se ci sono degli alimenti che è più opportuno o è meglio evitare in assoluto o che comunque non debbono essere abbinati per motivi di di salute ecco allora è una domanda molto complicata nel senso che no non esiste un alimento che in assoluto non debba mai proprio entrare nella nostra vita non esiste anche l'alcol banalmente pensavo alla carne carne rossa no partiamo dall'alcol l'etanolo è l'unica molecola ad oggi presente nel mondo cibo gastronomico insomma l'etanolo è l'unica molecola in grado di trasformare in maniera visiva le cellule a cellule tumorali punto cioè l'etanolo l'alcol però è una questione di quantità io però non potrò mai far uscire dalla mia bocca come fondazione Umberto Veronesi il consiglio di bere un bicchiere di vino al giorno non potrò mai poterla non potrò mai dire una cosa del genere questo non escludo il fatto che io bevo non sono ubriacone però bevo cioè capita di brindare in casa nei miei momenti di relax so ovviamente valutare la mia soglia di alcol e so soprattutto quanto berne appunto e e collocarlo in diverse occasioni sulla carne rossa ad esempio ci sono delle quantità anche per quella le carni rosse intese come maiale manzo agnello possiamo consumarne fino a 500 grammi alla settimana se sono fresche se sono processate i grammi diventano 50 processate vuol dire dalla bresaola al guster alla salsiccia e fresca invece vuol dire la fettina di manzo o il vitello tonnato come mi ha mi ha richiesto la giornalista appunto del Corriere della Sera di Torino ecco in quel caso abbiamo una quantità che è 500 grammi e quindi superati questi 500 grammi cosa succede? non è che ci ammaliamo dall'oggi al domani se tutta la nostra vita la conduciamo con un'elevata quantità di carne rossa aumentiamo il nostro rischio di ammalarci e su questo ci sono dei lavori di cui ormai abbiamo dei dati certi sono lavori legati ad alcune forme tumorali e alcune diciamo problematiche cardiovascolari quindi l'importante è saper dosare anche in questo caso la quantità se poi noi alla carne rossa le abbiniamo tanta bella verdura vicino possiamo anche permettercela serenamente perché in qualche modo le fibre vegetali rubano una volta ingerite rubano nel nostro organismo le cose cattive che ci può dare la carne rossa proprio detta un po' così la stessa cosa avviene con gli zuccheri se noi mangiamo qualcosa che è molto zuccherino però li abbiniamo vicino a dei grassi magari grassi buoni questi grassi permettono di attenuare l'effetto dello zucchero sul corpo quindi un biscotto però se è vicino abbiamo anche che ne so un pezzo di pane con dell'avocado ecco è perfetto sarebbe l'abbinamento proprio perché riesce a bilanciare bloccare insomma quella che potrebbe essere la reazione degli zuccheri semplici questo è un po' in linea di massima al tutto e poi ci sono degli abbinamenti invece buoni molto buoni come può essere una bella macedonia bella colorata estiva con albicocche pesche un po' di melone dentro magari un mango una bella mela per renderla efficace per il corpo o aggiungiamo un bel cucchiaino di olio extravergine dentro nella mescolata così rendiamo tutte le vitamine liposolubili le rendiamo biodisponibili cioè il nostro corpo le accetta o poco prima di quella macedonia ci mangiamo un pugnetto di frutta secca noci mandorle e pistacchi che così contengono gli stessi grassi dell'olio ma sono già dentro la nostra pancia e nell'arco di quell'ora tutte le vitamine che ci mangiamo diventano assimilabili o se no le mettiamo dentro la macedonia stessa quindi la facciamo di frutta fresca e frutta secca e lì sarebbe ovviamente l'ampleine facciamo bomba quindi macedonia frutta fresca non limone per esempio non limone perché? non lo so no il limone va bene è spremuto all'interno nel senso che io avrei messo limone limone non lo zucchero magari come faceva mia mamma macedonia ci mette sullo zucchero perché? ma perché? anche ad oggi a Vivienne prepara la macedonia e mette sullo zucchero perché è più buona ma non è vero è più buona se tu che le dici che è più buona non è vero se io l'ho abituata a mangiarsela così senza zucchero e poi mi torno a casa e mi aggiungi lo zucchero come la nonna e dici ma so cosa fa nonna e no cioè dobbiamo imparare anche noi stessi a bilanciare questo introito di zuccheri inutili a volte il limone va bene va bene anche l'olio dentro oppure il limone e poi un po' di frutta secca all'interno e lo stesso vale per le proteine per esempio per le proteine vegetali e proteine animali lì puoi mischiare quanto vuoi l'importante è le quantità perfetto e basta puoi mischiare quanto vuoi perché il nostro corpo è capace una volta ingerite di distruggere tutte le proteine in amminoacidi questi amminoacidi poi li usa come vuole lui sia che siano vegetali che siano animali quindi se io mangio un pezzo di formaggio in abbinamento a dei legumi per esempio va benissimo va benissimo puoi mangiare anche un pezzo di formaggio un pezzettino di merluzzo e vicino appunto un tortino di ceci vai tranquillo l'importante è la quantità non un chilo di tortino di ceci non una forma di grana padano e non l'abbinamento non vi sticcia no no assolutamente è solo un problema di digestivo ok cioè prolunghi un pochettino la digestione è solo quello quindi se uno soffre di acidità di reflusso è meglio non abbinare troppe proteine ma perché ci impieghi di più a digerire è solo questo è solo per quello però se tu tu pensa ad esempio anche a un piatto della nostra tradizione una pasta ai ceci un riso ai piselli cioè sono comunque c'è anche i carboidrati che contengono proteine però finché è quel piatto lì non ci poniamo il problema appena li mettiamo su un po' di grana un po' di qualcosa o lo abbiniamo a qualcos'altro diventa sempre poi una grande paura per il corpo no non è vero non deve esserlo quindi è tutto è tutto contiene proteine fondamentalmente dipende sempre da quante ne stiamo consumando e basta solo quello la val d'ostana abbinata a una rata al forno se ti mangi tutto di queste cose magari non va bene ecco meglio di no ci pieghi domani per digerirla però è solo un problema di quello no e se dobbiamo digerire cosa consumiamo? l'ananas l'ananas però il torsolo contiene bromelina non il resto il torsolo che viene buttato via contiene bromelina la bromelina ha un'azione proteolitica cioè ha l'azione di digerire le proteine non lavora sui grassi l'ananas scordatevi nella vostra vita l'ananas lavora esclusivamente per farci digerire meglio quindi l'ananas a fine pasto come si usa nei ristoranti serve semplicemente per digerire più in fretta per spaccare le proteine per far partire la digestione ma lavora solo su quello sui grassi l'ananas non lavora invece c'è qualcosa che bruci i grassi per esempio non esiste niente no per bruciare i grassi bisogna studare parecchio muoversi e basta no non funziona nell'aceto di mele nel caffè verde nella tisana nel peperoncino nulla bruciare i grassi non esiste nulla purtroppo così come il detox non esiste la parola detox non possiamo ci pensano già i reni e il fegato eventualmente a ripulirci ma io utilizzo appunto la parola ripulire perché detossificare qualcosa vuol dire che abbiamo delle tossine all'interno e se ce le abbiamo stiamo per morire perché non potremmo conviverci quindi quindi no non si può fare realmente cioè biologicamente non è possibile perfetto grazie grazie a te un applauso concludiamo quindi questa chiacchierata con Pietro io ringrazio tutti voi grazie davvero tanto 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 mi metto a disposizione per firmare i libri non so dove credo fuori direttamente al banchetto del libro